Amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive avete una force fiesta che va benissimo un gioiellino non vi dà problemi e a un certo punto si accende la spia della di blu e da lì iniziano tutte le rogne e tutte le madonne che tirate seguiteci sul video e vedrete che cosa riusciamo a fare per risolvere il problema sigla ecco come premesso abbiamo una macchina normalissima questa è una for fiesta anche recente una macchina che non ha tantissimi anni col motore 1500 td ci ovviamente di ultima generazione con un motore che ha fap e sistema di blu e purtroppo la grande maggioranza diciamo di coloro che hanno questo genere di motori diesel lamentano due tipi di problematiche questo per fortuna questo cliente qua ne lamenta una sola però tante volte ce ne sono due se non tre i problemi principali sono sostanzialmente l'intesimento del sistema del filtro antiparticolato e lì abbiamo suggerito spesso le varie soluzioni per ripristinarlo il sistema del filtro antiparticolato se non viene preso in tempo crea inevitabilmente una rottura della turbina e lì dobbiamo poi intervenire meccanicamente per revisionare il turbo e questi sono i due componenti ci sono le due problematiche più frequenti che ci capitano spessissimo in officina la causa del fape la sapete perfettamente sono sistemi collegati appunto alle normative antinquinamento che però hanno un vincolo enorme sul tipo di percorrenza cioè se il cliente utilizza la macchina per brevi tragitti e non fa scaldare il sistema inevitabilmente anche su fape magari di generazione più recente purtroppo il fape piano piano si va a intasare fino al punto in cui non è più recuperabile con le rigenerazioni forzate e lì si apre una problematica che come dicevo abbiamo spiegato più volte con soluzioni più o meno invasive sempre a discrezione del cliente noi non andiamo mai a obbligare il cliente a fare una cosa piuttosto che un'altra noi siamo degli esecutori il cliente la responsabilità dei lavori che vengono fatti sono ad esclusiva sono esclusivamente del proprietario della macchina venendo a questa macchina qui che come dicevo è un fiestino di ultima generazione non ha il problema al fape perché probabilmente il cliente usa la macchina in maniera diciamo mista fra piccole percorrenze e tangenziale autostrade ha purtroppo lamenta purtroppo la problematica sul serbatoio della di blu allora facciamo un piccolo escursus la di blu è un sistema che è stato introdotto da un po' di anni e ha un serbatoio posto alla fine del condotto di scarico e da un punto di vista pratico e teorico serve viene iniettato dopo che viene fatta la rigenerazione e va ad appesantire le molecole di particolato in maniera tale che non si volatilizzino nell'aria ma si depositano la terra questo da un punto di vista puramente teorico il genio che ha inventato questo sistema ha pensato di risolvere una parte di problemi che riguardavano appunto le vetture senza questo tipo di meccanismo peccato che questo tipo di soluzione utilizzi un componente che si chiama urea che viene stoccata in un serbatoio normalmente un serbatoio di un litro un litro e mezzo di questo componente che viene utilizzato poco alla volta il consumo non è elevatissimo che però al bruttissimo vizio che al contatto con l'aria questo componente si va a cristallizzare diventa proprio una una specie di come il sale cristallizzato in sostanza è un liquido che va a solidificarsi a cristallizzarsi e fin lì può anche non sembrare così drammatico la cosa drammatica è che cristallizzandosi questo liquido che è contenuto nel famoso serbatoio che contiene la di blu il serbatoio di blu a un pescante che regola il livello della di blu che col cristallizzarsi del del liquido si va a bloccare quindi una volta che si blocca il pescante tutte le macchine che hanno questo sistema sono danno un input alla centralina che indica attenzione che il sistema di blu è bloccato o quantomeno indica può essere bloccato un altro altri segnali possono essere livello a di blu scarso a fare i fornimenti e quant'altro e lì si apre un calvario per coloro che hanno questo genere di problematiche nel senso che tantissimi mettono la di blu e il 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 segnale di warning continua ad accendersi in sostanza cosa succede essendosi bloccato il pescante e non essendo il serbatoio apribile perché è sigillato perché i furboni che costruiscono queste cose li fanno bene in maniera logica per cercare di far spendere più soldi possibili agli utenti come dico tante volte ci sono degli ingegneri che probabilmente usano appendici del corpo diversa dal cervello un pochino più basse magari nella parte posteriore quello lo usano molto bene per progettare alcuni componenti e questo è proprio un caso perfetto quando succedono queste cose qui i clienti si trova nell'unica condizione di dover andare in concessionario perché non esistono neanche dei componenti aftermarket dove uno dice risparmi un pochino no il pescante non si può cambiare ti cambiano tutto serbatoio compreso di pescante che costa una fucilata a seconda delle macchine sono spese veramente di centinaia e centinaia di euro ripristinano il tutto e questo ripristino non è che assicura che per tutta la vita della macchina il componente non si il problema non si ripresenti probabilmente si ripresenterà ancora e come ho detto spesso l'uniche due accortezze che avete per salvarvi da questo pantano sono a usare degli additivi che tendono a ridurre la cristallizzazione quindi mettete nel serbatoio insieme alla di blu anche questi additivi che un pochino aiutano ma la cosa principale suggerimento principale che vi do non andate mai a fondo diciamo non fate come dire arrivare mai in riserva al serbatoio perché nel momento in cui arriva troppo in basso arriva in riserva ovviamente inevitabilmente anche andando a fare riferimento una piccola quantità di aria insieme al al liquido entra nel serbatoio e questo vi frega perché nel momento in cui una quantità di aria oltre una piccola percentuale viene a contatto con l'urea l'urea a medio termine si va a cristallizzare e voi vi trovate col serbatoio bloccato da lì inizia come dicevo prima una un calvario perché non solo bisogna cambiare tutto l'ambaradano ma gli ingegneri famosi che usano il deretano al posto del cervello hanno anche pensato di collegare un sistema chiamiamolo di countdown dove appare sul cruscotto della macchina se uno non risolve il problema in un arco di chilometri ben preciso solitamente andiamo dagli 800 ai 1500 sulle macchie non è che le conosco tutte c'è un range che non è eterno cioè diciamo 800 mille chilometri a fare tanto se uno dice io me ne sbatto le palle vado avanti e lascio perché tanto la macchina funziona perfettamente e non vado a risolvere il problema il countdown che è collegato ovviamente con l'odometro per cui segni chilometri precisi allo scadere del chilometraggio vi manda la macchina in protezione e voi quella macchina lì più di 70 all'ora non andate quindi un'arma a doppio taglio quindi veniamo al caso specifico quindi come dicevo quando succedono queste cose noi proponiamo ripeto e rimarco l'accento sul proponiamo le varie alternative possibili poi è sempre il cliente finale il proprietario della macchina che si assume la responsabilità e la scelta di quello che deciderà di fare allora in questo caso le soluzioni sono due neanche tre sono due o si cambia il serbatoio andando a comprare in ford completo di pescante mano d'opera smonta rimonta quant'altro senza la sicurezza che dopo un certo numero di chilometri non si ripresenti e questo a un determinato costo o se no soluzione più drastica si elimina da un punto di vista pratico ed elettronico il sistema in maniera definitiva noi lasciamo le due soluzioni in questo caso il cliente ha scelto la seconda soluzione sfirmandoci uno scarico di responsabilità e noi abbiamo eseguito il lavoro il lavoro è molto semplice si entra in centrale elettronica ci sono i vari quadri di gestione dei parametri c'è il parametro di gestione del fap in questo caso si entra nel riquadro che gestisce il funzionamento della di blu che viene gestito dalla rigenerazione del fap si mette a di blu on e a questo punto la di blu non è più attivo per cui si ritorna alla soluzione precedente dove c'erano le macchine euro 6 non euro 6 b euro 6 con il classico fap senza la di blu poi però bisogna anche andare a fare dipenda al tipo di macchine o scollegare i sensori già comunque fare anche un piccolo intervento sul serbatoio perché a questo punto avrebbe sempre fuori l'errore l'anomalia quindi è un lavoro relativamente semplice che però va a eliminare il problema in maniera radicale capisco sono d'accordo sul fatto che mettere le mani sui sistemi di questo genere non è una bella cosa ma bisogna anche riflettere il fatto che come ripeto se chi ha progettato questi sistemi li ha progettati in maniera balorda e sono ancora buono a usare questo aggettivo è chiaro che tu non puoi rompere i coglioni alla gente fino si ne die devi anche mettere nella condizione di poter vivere soprattutto gente che magari non ha poteri economici illimitati quindi fai un sistema e lo fai efficiente se fai un sistema e lo rendi inefficiente te ne assumi le responsabilità la gente deve vivere deve andare a lavorare deve continuare a utilizzare le macchine e a questo punto a discrezione loro e a responsabilità loro decideranno che cosa fare questo mi sembra il quadro della situazione io spero di essere stato sufficientemente chiaro come sempre qualunque informazione sulla di blu fa up santi e madonne sapete dove trovarmi quello che vi chiedo sempre è un bel like sotto di stima ed incoraggiamento cliccare sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su quello che noi facciamo un saluto alla prossima